Buongiorno amici e bentornati. Prima di incominciare, 3.000 volte grazie, perché inaspettatamente ho raggiunto i 3.000 iscritti, quindi veramente grazie a ognuno di voi. Il video di oggi che avevo in programma era tutt'altro, ovvero andare a mettere l'adesivo che ho scelto e che insieme mi avete consigliato, ma a questo punto lo scopriremo la prossima settimana, perché mi aveva dato speranze che fosse stato pronto sabato mattina, ma purtroppo non ci è riuscito. Quindi sarà il video della prossima settimana. Perciò se anche tu sei curioso di sapere quale logo ho scelto alla fine da incollare nel di dietro del mio camper, ma soprattutto cosa vado a sperimentare per incollare un adesivo sulla buccia d'arancia, iscriviti al canale per rimanere aggiornato sui prossimi video che usciranno. E visto che il video di questa settimana che avevo pensato era tutt'altro, non mi sono preparato assolutamente niente. Quindi l'unica cosa che mi è venuta in mente è quella di continuare con i mille lavoretti che ci sarebbero da fare e che lascio in sospeso ogni volta. Uno di questi lavori, e lo dedico a te Tony, un mio iscritto da tanto tempo che è lui che in ogni video mi dice bravo, bellissimo lavoro, ma sistema la parte del quadretto elettrico che è inguardabile ed effettivamente c'ha ragione. Quindi penso che oggi sia arrivato il momento di farlo. Potrei andare a mettere un'altra pellicola, visto che andandoli a metterli in un goccio di vinavil dietro in realtà tiene molto di più, cosa che qua non avevo fatto. Ma l'idea non mi convince così tanto. Quello che ho pensato è di rivestire con sempre questo materiale qua, ovvero un pavimento laminato comprato alla self. E visto che ne ho avanzata ancora una tavoletta, perché non sfruttarla e far sì che tutto il mobilio del mio camper sia uguale. Smontiamo il pannellino e andiamo a fare due misure. In altezza, io lo farei 18 e mezzo, 18 e mezzo e lunghezza 50. Allora il legno che andrò a utilizzare è questo qui, come vi dicevo ne ho avanzata giusto giusto una stecca. Questa in realtà sarebbe già 20, mi basterebbe accorciarla di appunto un centimetro e mezzo e mi andrebbe già bene. Però visto che non voglio andare a scollegare tutto il quadretto elettrico, andrò a fare due pezzi da 50 e poi li andrò a dividere a metà utilizzando la cerniera. Allora, da spiegare è un casino, vi faccio vedere così capirete. E ora un altro pezzo da 50. In questo modo questi due pezzi, essendo maschio e femmina, combaceranno perfettamente. Adesso mi andrò a tracciare i 18 e 50 tenendo la riga esattamente in centro, in modo da poi fargli il taglio e il quadrettino, infilarglielo dentro appunto. Ma lo vedrete fra poco. Taglio completato, proviamolo insieme. E ora speriamo vada tutto perché mi sono rotto le balle di fare su e giù, sarà già 40 volte. Pezzo di sì. Pezzo di giù ed ecco qua svelato perché ho preferito fare due pezzi perché almeno riesco a impanninare il tutto. Allora, una volta fissato è tutto più facile, ma nel momento che non lo è, è tutto più difficile. Invece no, devo scendere ancora una volta perché è un pelo troppo lungo. Ci rivediamo fra poco. Ok ragazzi, ci siamo. È uno spettacolo. Direi che è perfetto. Bellissimo. Bello, bello, bello. Adesso mi basterà quattro vitine qua per tenere ferma la centralina e non dovrò fare nient'altro perché sarà poi lei stessa a tenermi fermo il tutto. Avvitatore e andiamo a cercare quattro viti uguali. Ho trovato queste vitine qui, tutte quante uguali, non il classico marrone, così saranno anche un po' belline da vedere. Cerchiamo di metterlo dritto. Wow. Voilà. Papà, papà. Papà, almeno è tutto uguale, no? Eh. Adesso devo ristudiarmi la chiusura di questo. Perché prima era qua così. Vediamo un po' se così può sempre funzionare. Questo potrei provare a fissarlo qua. Proviamoci, dai. Et voilà, che anche la nostra chiusura è stata ricreata. È un po' più bello, eh, da vedere. Ma soprattutto ora riprende tutto il mobilio del mio camper. Un altro lavoro che avevo fatto nello scorso video è stato montare questo terminalino qui. Per far sì che tutti i gas di scarico mi vadano verso il basso e non mi vadano più a intaccare la parete posteriore. Solo che in molti di voi mi avete fatto notare che effettivamente esce un po' troppo dal camper. Non è un problema per quanto riguarda i parcheggi, perché alla fine è quasi quanto la scaletta, anzi forse un po' meno. Però non vorrei mai incorrere in una sanzione per una cavolata del genere. Quindi una piccola modifica che andrò a farli, ovvero di andarlo a crociare un pelino. Ok. Grazie a tutti Ci do una bella limata Un'altra cosa essenziale che andrò a fare dopo aver tagliato è andargli a dare una spruzzata di vernice ovviamente resistente al calore Questa fino a 800 gradi cosa che lo scarico non ci arriverà mai per far sì che non si arrugginisca dopo il primo inverno Ora siamo pronti per andare a rimettere in maniera definitiva il nostro terminale Decisamente meglio Un altro consiglio che mi avete dato è quello di mettere la fascetta al contrario E sinceramente anche quella è una bella idea Solo che mi va a toccare... le viti mi vanno a toccare poi la plastica tenendomi lo scarico non libero dai movimenti Quindi preferisco così almeno è libero di sballonzolare come vuole Et voilà Una lucidatina E anche questa è fatta Per poi non sarà cambiato niente ma sono trascorse 24 ore Ieri alla fine è arrivato il diluvio universale Allora ho ritirato tutto di fretta e furia per non prendermi una lavata Ma i miei lavori non si erano ancora conclusi Un'altra cosa che volevo montare è questo micro compressore comprato alla Lidl a una decina di euro Che mi servirà per gonfiare gli ammortizzatori posteriori Perché il mio camper è disposto di ammortizzatori ad aria Solo che non ci ho mai potuto giocare più di tanto Perché non avendo un compressore per poterli rigonfiare Li ho sempre regolati prima di ogni viaggio e non più toccati Avendo un compressore che mi permetterà di sgonfiarle e gonfiarle Potrò fare un po' più di prove Il punto che avevo pensato di piazzarlo è questo qua In questa maniera il beccuccio mi arriva comodamente in tutte e due le valvole Ok Et voilà Mentre per quanto riguarda i collegamenti e l'accensione Li ho costruito questa scatolettina qua Così avrò un comando e soprattutto una scatola dove mettere suo fusibile di protezione Due viti e andiamo a fissare anche la scatola Adesso abbiamo il cavetto del compressore Che glielo portiamo già dentro la scatola E il nostro arrivo del 12 volt Ok E ora siamo pronti con i nostri collegamenti Allora il negativo lo andiamo a unire col negativo del compressore E mentre per quanto riguarda il positivo che arriva Gli andiamo a mettere un fusibile di protezione E dopo aver messo il fusibile possiamo collegarli il nostro interruttore Che andrà a interrompere il nostro cavo positivo Chiudiamo la nostra scatoletta E prima di andarlo a provare non mi rimane che andare nell'altra scatola A collegare i due fili d'arrivo del 12 volt Se no non avrà mai corrente Positivo e negativo collegati Non ci rimane che provarlo Ma adesso vediamo se riesce veramente a gonfiarli gli ammortizzatori Allora proviamo a sgonfiare l'ammortizzatore di sinistra E' ottimista che riesco a gonfiarli tutti e due Sgonfiamo anche quello di destra Io questo compressorino l'avevo già provato ovviamente E ho visto che ci riesce a gonfiarli Ha i suoi tempi L'ho pagato 10 euro Appena avrò due soldini magari lo cambierò Ma se fa il suo lavoro finché dura lo teniamo Ok valvola agganciata E ora proviamo ad accendere E ci è riuscito 4 bar raggiunti senza problemi Ora vai con l'ammortizzatore di destra Wow 4 bar raggiunti in entrambi gli ammortizzatori E anche questa si può dire che è fatta Si può spellicolare Che onore dopo anni nel cassetto Bene ragazzi anche per oggi è tutto Spero che questo video sia stato utile a qualcuno E se vi è piaciuto vi invito a lasciare un like qua sotto Mentre se non l'avete ancora fatto Vi invito a iscrivervi al canale In tal modo da restare aggiornati Su tutti i lavori che andrò a fare I viaggi e le avventure a bordo del mio camper Con questo è davvero tutto Ci vediamo la prossima settimana Ciao a tutti